Un saluto a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube, io sono Stefano Adami e quest'oggi vi racconterò le cose che mi segno nel mio diario di pesca, quindi tutti i dati sensibili e interessanti che mi servono per fare statistica e per comprendere meglio le situazioni di pesca. Prima di cominciare mi raccomando, se sei nuovo del canale e sei un appassionato di pesca e ti piace scoprire tutte le ultime novità nel campo di questa meravigliosa passione che ci accomuna, non ti dimenticavi di iscriverti al canale e schiacciare la campanella per essere sempre aggiornato sui miei ultimi video. Ci tengo a fare una piccola premessa. Ragazzi, la vita è breve e i momenti per andare a pescare non sono infiniti. Anche se con queste statistiche doveste vedere che la situazione non è delle migliori per andare a pescare, fregatevene e andate a pescare lo stesso. Più tempo riuscite ad andare a pescare, meglio è. Non a caso io concludo tutti i miei video esortandovi con andate a pescare, andate a pescare. Ok, quindi andate comunque a pescare ma con questi dati avverete una visione un po' più chiara e un po' più completa. Un'altra cosa molto importante è questa. Una volta che vi segnerete tutti i dati che adesso tra un po' vi racconterò alla fine di ogni pescata, mi raccomando non lasciateli lì, cioè lavorateli. Cosa significa lavorateli? Mettetevi lì e cercate di capire quali sono le correlazioni tra questi dati che vi hanno fatto prendere più pesci nella vostra zona. Non segnateveli tanto per il gusto di segnarveli, ma ogni tanto controllateli. Io ragazzi, vi devo dire la verità, ho iniziato a farlo adesso ultimamente con dei fogli Excel, quindi sul telefono ne faccio prima, ma ho quattro cassetti in casa di quaderni, tutti scocciati uno con l'altro con tutti questi dati. Se volete segnarvelo nelle note o farvi un foglio Excel vi verrà molto più semplice e non andrete a sprecare e consumare carta. Adesso vediamo quello che io mi segno ogni volta che vado a pescare. Immaginatevi un quadernetto aperto, avrete due fogli sui quali scrivere, da una parte scriveremo le cose generali della giornata, dall'altra le cose particolari. Mi spiego meglio. Dalla parte generale, io solitamente la metto a sinistra, metto il giorno in cui sono andato a pescare, poi successivamente metto a che ora ho iniziato a pescare, a che ora ho finito di pescare. Sotto a queste righe scrivo dove sono stato a pescare, segnatevelo perché potreste dimenticarvelo. Mi segno il waypoint dove sono stato a pescare se sono in barca, i posti dove sono andato a pescare se sto pescando nella terra, e mi segno praticamente tutto e a che ora ho fatto gli spostamenti, cioè a che ora ero in un posto e a che ora ero nell'altro. Questo diciamo che è un po' l'inizio del quadernetto. Sempre in questa parte del quadernetto vado a segnarmi i seguenti dati. La temperatura dell'acqua, importantissima. Segnatevi sempre la temperatura dell'acqua. Certo, se pescate dalla barca è molto più semplice, l'ecoscandaglio vi darà la temperatura dell'acqua in superficie. Altrimenti se non avete un ecoscandaglio, anche un ecoscandaglio portatile da lancio, come si usano ogni tanto da terra, munitevi di un termometro, andate in un negozio di acquari, lo legate, lo lanciate dove state pescando, recuperate, visto che poi il termometro ci mette un po', lo lasciate un attimo galleggiare dove state pescando, lo recuperate e leggete la temperatura. La temperatura, ragazzi, è una cosa estremamente importante. Pensate che io addirittura, quando noto dei termoclini con la barca, calo giù il termometro con il piombo per prendermi tutti i termoclini. Non lo faccio sempre, lo faccio soltanto magari nei momenti di cambio di stagione per capire quali sono le differenze dei termoclini nell'acqua. Però la temperatura è una cosa molto importante. Ricordatevi che nella maggior parte dei casi, più la temperatura è stabile, più la temperatura è confortevole, più ci sarà attività di pesci, ok? Più o meno tutti i pesci ragionano in questa maniera. Soprattutto i pesci termofili, quindi quelli che adorano la temperatura stabile. Il dentice è il pesce per eccellenza più termofilo che esista, ma prima o poi ne parleremo. Se siete in barca, aumentate i guadagni, quindi i gain, e andate a leggere i termoclini. Quindi, primo strato dell'acqua, secondo strato dell'acqua, a volte c'è anche un terzo strato dell'acqua, aumentando la sensibilità, controllate dove sono i termoclini. Ragazzi, ragionare sulla temperatura dell'acqua e sui termoclini vi assicuro vi fa fare la differenza in pesca. La maggior parte dei pesci non ama gli sbalzi di temperature eccessivi. Altro dato importantissimo, il vento e i cambi di vento. Sempre nella paginetta generale della pescata, segnatevi il vento, quindi la direzione da cui proviene il vento, quindi potrete scrivere sciroccoli, beccio, grecale, maestrale, trabontana, quello che sarà. L'intensità del vento, se avete un anemometro è l'ideale, ora magari nessuno pretende che andiate a pescare con un anemometro, ma ci sono dei sistemi, da Windfinder, Windguru, tutti questi sistemi che vi danno più o meno un'idea del vento abbastanza preciso. Quindi segnatevi il vento, soprattutto segnatevi a che ora è cambiato il vento. Ragazzi, è importante questo, perché il vento raffredda e riscalda il mare a seconda del vento che c'è. Sempre legato al vento, segnatevi l'onda, quindi la direzione, quindi da dove viene l'onda. Non è detto che vento e onda combacino, perché può essere mare morto, quindi mare lungo di caduta e magari una brezza differente, quindi segnatevi l'altezza dell'onda, se volete, e soprattutto la direzione. L'onda fa movimento nell'acqua, il movimento rimescola il nutriente e dà anche un cambio di temperatura, quindi questo segnatevelo. Un altro dato importantissimo è la pressione atmosferica. Quindi si misura in ectopascal, l'importante è capire se barometricamente, quindi utilizzando un barometro, la pressione atmosferica è in calo, costante o in salita. Questo è un dato, ragazzi, fateci caso, questo è un dato molto importante. La pressione atmosferica, voi dite, ma i pesci sono sott'acqua. Non vi preoccupate, la pressione barometrica è un dato estremamente importante. Personalmente, ve lo dico, soprattutto nelle nostre zone del Mediterraneo, io faccio più caso, attenzione questa cosa qua, so che scoprirà una polemica incredibile, poi parleremo anche di questi altri dati. A mio avviso è più importante la pressione barometrica piuttosto che la luna, anche se la luna comunque ha la sua bella importanza, perché influisce sulle maree, ma poi lo vedremo, vi assicuro che la pressione barometrica è una cosa veramente da tenere sott'occhio. Un altro dato importantissimo, soprattutto se pescate da barca, ma se riuscite a farlo pescando anche da terra, è molto più difficile, ne avrete dei giovamenti, segnatevi la corrente. Ricordatevi una cosa, vi potrebbe servire anche per la patente nautica, quindi magari segnatevelo se non avete già la patente nautica. Il vento viene, la corrente va, ok? Quindi si dice vento da il quadrante, che può essere, ve ne so, lo scirocco viene da sud-est, quindi scirocco viene da, la corrente va, è il contrario. Quindi la corrente non si segna da dove proviene, ma si segna dove va. Quindi corrente a ponente significa che fa da levante a ponente, e non da ponente a levante come potrebbe essere il vento. Pensavate di avere già troppi dati? Cioè, ho di peggio ragazzi, ho di peggio da farvi segnare. Andiamo nei dati molto tecnici e molto specifici. Io vi consiglio di segnarveli, soprattutto all'inizio, per cercare delle correlazioni. Io in questo video non vi dirò, è meglio pescare con la pressione in aumento, in calo, stazionaria, la marea così, la luna così, il sole che tramonta così. Non ve lo dirò, perché sono tutti calcoli che dovete fare voi stessi per imparare a pescare meglio. Se io vi dicessi, ragazzi, si pesca meglio in queste condizioni, voi magari potreste decidere di andare a pescare solo in queste condizioni. E sarebbe un errore gravissimo, perché i pesci magari mangiano di più in una condizione, ma possono mangiare sempre. Quindi non avrebbe senso che vi dicessi, andate a pescare solo in questi periodi. Ma sto cercando con questo video di darvi lo strumento per farvi analizzare scientificamente quello che succede in mare. Non vi sto dicendo, andate a pescare in quelle condizioni perché è meglio. Vi sto dicendo, imparate a valutare le condizioni. Perché spesso certe condizioni magari presuppongono un tipo di pesca piuttosto che un altro. Ci siete? Ok? Avete capito quello che sto cercando di fare? Di darvi la possibilità di imparare a leggere meglio il mare. Non dirvi quando è meglio andare a pescare e quando non è meglio andare a pescare. Parliamo di altri dati tecnici da segnarci. La marea. Come marea andremo a segnare sempre nella nostra parte sinistra del quaderno, andremo a segnare il momento di marea. Quindi a che ora c'era l'alta, a che ora c'era la bassa. Andremo a scriverci nel periodo in cui siamo stati a pescare, come era la marea. Non basta segnarsi la marea, dobbiamo segnarci anche il coefficiente di marea. Cioè quanto la luna ha influito sullo spostamento d'acqua. Ricordatevi che la marea muove la corrente, la marea muove l'acqua. E ovviamente i nutrienti sono disciolti nell'acqua e si muovono con le correnti. Quindi a volte nei cambi di marea cambia anche la corrente. Ragazzi tutte queste cose scrivetevele perché prima o poi troverete una quadra. Soprattutto se state trainando con il vivo dalla barca o state facendo certe pesche dalla barca, scoprirete segnandovi questi dati che vi sto per dire che ci sono dei momenti in cui su una secca il pesce è più attivo per alcuni motivi, invece altri momenti il pesce è più attivo su altre secche perché la conformazione della secca con il cambio di maree e di correnti fa salire il nutrimento o fa comunque agitare di più i pesci in una zona piuttosto che un'altra. Quindi questo ragazzi è forse uno dei segreti più grossi della pesca dalla barca. Cercate di capire come gira l'acqua, come gira la corrente e quindi dovete segnarvi tutto questo. Dopo un po' vedrete che arriverete a un certo punto e direte ok c'è questa marea, c'è questo cambio a quest'ora, allora devo cominciare la pescata prima su sta secca qua perché mi paga di più quando la corrente si muove presumibilmente in una maniera. Poi mi sposto sull'altra perché... Questa ragazzi è importante eh? Spaccatevici un po' la testa sopra, non vi voglio dare la pappa già pronta in questo video anche perché non esiste una pappa pronta, pronta per tutti quanti, tutti i pescatori in zone diverse. Cercate di segnare questi dati e farvi una statistica vostra. Vedrete che ne gioverete tantissimo. Altro dato importante che andremo a segnare sul nostro quadernetto è il sol lunare. Che cos'è il sol lunare? Non è altro che il sorgere e il tramontare del sole e della luna. Scriviamoci anche il transito lunare. Quindi quando la luna è sopra di noi, quando la luna è al nostro opposto, quindi dalla parte opposta della terra, perché anche queste cose hanno un certo tipo di trazione sull'acqua. Segnatelo. Sono tutti dati semplicissimi che trovate sui vari siti come Meteo Pesca per esempio. Non vi andate a prendere tutti i dati, che ci sono dei dati decisamente che non servono a nulla. Però ad esempio il sol lunare e il transito della luna sono molto interessanti. Faccio una piccola parentesi tra transiti lunari, maree e quant'altro. Molti di voi obieteranno e diranno Stefano, soprattutto nelle nostre zone, l'escursione di marea è veramente minima. Ragazzi, non importa tanto l'escursione che c'è a riva, quindi la differenza tra alta e bassa marea. L'importante è il movimento dell'acqua, della grossa massa d'acqua, soprattutto quella che genera correnti. Il cambio di marea, a seconda della zona dove siete, influisce differentemente sull'acqua. Perché se siete in una zona stretta tra due isole o se siete in una zona stretta tra due scogli, lo spostamento di marea genererà una corrente sicuramente più importante. Ricordatevi che, non vi voglio tediare con leggi della fisica, ma se la zona dove passa la corrente è più stretta, maggiore è la pressione dell'acqua in questa zona. Segnatevi periodi maggiori e periodi minori, quindi anche le albe lunari, i tramonti lunari, perché possono essere importanti. Adesso vediamo una cosa molto importante che nessuno segna, è il proprio umore. Vi ricordate nel video precedente, se non l'avete visto vi metto un link qua sopra nelle schede, oppure qua sotto comunque in descrizione, che vi ho parlato anche che la pesca va anche un po' in base al vostro umore, perché segnatevi l'umore. Poi mi farete sapere via messaggio qua sotto nei commenti come va a influire nelle pescate il vostro umore. Vedrete che sarà una cosa che vi stupirà. Segnatevi il cielo, quindi i cambi di luminosità del cielo, quindi segnatevi se è una giornata dove sta piovendo, se è una giornata dove il cielo è coperto, se il cielo è terzo, se si è coperto a una certa ora e si è scoperto in un'altra, quindi mi raccomando segnate anche le condizioni atmosferiche, soprattutto le condizioni di velatura o meno del cielo. Invece dall'altra parte del quadernetto, e io vi auguro di scriverci tanto nella parte destra del quadernetto, dovrete segnare l'orario di tutte le catture che farete, che poi sono dati che andrete a incrociare con la parte sinistra del quadernetto, della paginetta del quadernetto. Quindi andrete a mettere, che ne so, ore 7 e 35 di mattina, su questo artificiale, su questa esca, ha mangiato questo pesce in questa maniera. Scrivetevi di tutti, perché vedrete che ci saranno poi delle correlazioni con i dati che ci sono dall'altra parte. Ragazzi, questa è la chiave, imparare a incrociare i dati. Ok? Scrivere il più possibile, anzi vi esorto, se voi andando a pescare vi segnate qualche cos'altro, utilizzate i commenti qua sotto, quindi lo strumento dei commenti di YouTube, per scrivermi che cos'altro vi segnate. Nella parte inferiore della pagina a destra del quadernetto, lasciatevi uno spazio per le note, appuntatevi tutto quello che notate che vi salta all'occhio. Vi potrà servire in un futuro, ragazzi. Quindi, oltre ai dati che vi ho detto, mettetevi anche delle vostre note personali, della parte dove ci sono le varie catture. Ok? Quindi direi che il quadernetto così è molto completo. Incominciate poi a confrontare i dati, confrontare le pescate e cercate degli schemi. Non è così banale, così semplice trovare uno schema, si possono trovare, a volte degli schemi che trovate, dopo un tot di pescate, vengono stravolti la pescata successiva. Quindi non è scienza allo stato puro, però è un qualcosa che ci aiuterà molto. Ci tengo che ascoltiate molto bene quello che sto per dirvi, mi raccomando, concentrazione in questo momento, fate tutte le vostre statistiche, ma comunque sia, anche se la giornata risulta brutta, andate a pescare lo stesso. Non fatevi troppe mentali. Ok? Quindi non ve ne fate troppe, andate a pescare lo stesso e segnatevi tutto. Una giornata negativa con tutti i dati segnati può fare statistica anche molto di più di una giornata dove prendete dei pesci. Quindi mi raccomando, segnate tutto, anche se non pigliate niente. È importante. Diciamo che in questo video ho messo un po' a nudo alcuni dei miei segreti di pesca. Per questo, ovviamente, adesso tocca a te. Io ho bisogno di un like a questo video, di un commento e di una condivisione. Fai vedere ai tuoi amici questo video che magari se lo potrebbero perdere nelle ricerche di YouTube. Quindi mi raccomando, sponsorizzami un po'. Visto che io mi sbatto a fare i video, mi raccomando, almeno voi fateli vedere a tutti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, schiacciare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei ultimi video e soprattutto utilizzate lo strumento dei commenti per consigliarmi dei video da realizzare. Perché magari avete delle necessità, la voglia di conoscere e di sapere alcune cose e a me non viene in mente. Quindi se voi mi scrivete, potresti fare un video così, 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 nei commenti qua sotto. A me torna anche molto utile, poi ovviamente torna utile anche a tutti gli altri che si godranno il video. E io come di consueto vi saluto dicendovi Andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!